Vediamo come si utilizza la camera di After Effects. Allora, lasciando perdere tutta la roba che c'è dentro questa composizione, qui possiamo vedere che abbiamo una videocamera. La videocamera si crea semplicemente da qui, oppure da livello nuovo videocamera. Ora, nel momento in cui creiamo una nuova videocamera, la videocamera può essere a un nodo oppure a due nodi. A un nodo significa che non ha un punto di interesse, mentre a due nodi ha un punto di interesse, quindi sostanzialmente ha un punto di riferimento. Come si fa ad animare una camera? Innanzitutto vediamo che qui siamo in modalità due viste. Normalmente si lavora in modalità una vista, ma quando si attivano le opzioni 3D si lavora su due viste, ovvero ci sono due schermate. Una è la videocamera attiva, che è questa, riconosciamo che è selezionata perché ha i triangolini, e l'altra, i triangolini passano di qua, l'altra è questa, che è una visualizzazione personalizzata. Ora, all'interno di questa visualizzazione io posso vedere la mia camera rispetto al mio punto di interesse, mentre nella videocamera attiva sto vedendo quello che esporterei se la composizione fosse finita. Quindi in questo momento io sto inquadrando la terra e la mia videocamera è qui e sta inquadrando la terra. Qui ho una visuale più completa di quello che sto facendo. Come possiamo vedere nel momento in cui selezioniamo la videocamera ci sono gli assi colorati. Se io apro la trasformazione della videocamera qui ho punto di interesse e posizione, che sono le caratteristiche che ci interessano di più per animare una camera. Se io mi posiziono su uno degli assi vedete che viene fuori ZYX. Se io clicco e trascino sto spostando la videocamera su quell'asse. Per cui in questo caso l'ho avvicinata sull'asse Z. In questo caso la sollevo sull'asse Y. Il punto di interesse si muove insieme, rimane in asse con la videocamera. Nel momento in cui... Annullo questi movimenti. Nel momento in cui io invece di muoverla, volessi tiltarla, mi posiziono sull'asse, tengo premuto Command e vedete che adesso la videocamera sta ruotando sull'asse mantenendo il punto di interesse invece di spostarsi lateralmente sopra o sotto. Sta ruotando. La stessa cosa lo posso fare sull'asse X. Ovviamente per animare questi movimenti non si fa altro che attivare lo stopwatch e fare i nostri movimenti.